Siamo giunti alla quarta edizione, quindi questa sarà la quarta edizione. Le novità sicuramente fanno riferimento al fatto che quest'anno per la prima volta avremo il piacere di ospitare una band internazionale, una band francese, Idovelliana. I ragazzi hanno iniziato un progetto nel 2020, sono tre DJ sostanzialmente che hanno avuto delle influenze anche italiane, da Adriano Celentano, Lucio Dalla. Hanno elaborato dei pezzi e costruito un album, tra l'altro l'ultimo fa riferimento a dei riferimenti con la Sicilia, con Palermo in particolare. Uno dei pezzi che ha raggiunto quasi il minore di streaming si chiama Piangi Palermo, è un pezzo veramente meraviglioso. Loro avranno il piacere e l'onore di chiudere il festival del 5 agosto, quindi sarà la band di punta dell'ultima sera del festival. Per chi non conosce il festival, ci racconti un po' di che cosa si tratta, che tipo di musica si può ascoltare, qual è la proposta musicale? Allora, la mission di Musaicon, quindi il nostro festival, è stata sempre quella di dare l'opportunità a band emergenti di calcare un palco per la prima volta, avere un pubblico vero, perché sostanzialmente quello che abbiamo sempre fatto è lanciare band emergenti che sono categorizzate nel mondo indie, anche se lì si potrebbe aprire un dibattito per definire il concetto di indie, però sostanzialmente il nostro obiettivo è dare la possibilità alle band emergenti di salire su un palco e poi magari da lì iniziare un percorso importante. Devo dire che fino ad oggi, siamo alla quarta edizione, abbiamo avuto, chiamiamola fortuna, però io non penso sia proprio fortuna, di ospitare degli artisti, il primo tra tutto Antonio Di Martino, Colapesce, anni fa, quindi 5 anni fa, diciamo il periodo in cui, come dire, erano all'inizio del loro percorso, sono passati poi da Sanremo, stessa cosa per gli Exotago, gli Exotago sono stati ospiti in un'edizione straordinaria di Musaicon a dicembre del 2015. Come mai Castelbuono? Castelbuono perché comunque l'associazione che organizza questo festival si chiama Apertamente ed è un'associazione fondata da ragazzi castelbuonesi, in realtà siamo tutti degli amici, il progetto è nato quando studiavamo all'università a Palermo, abitavamo tutti quanti in Corso Pisani, da lì la passione della musica, si siamo messi insieme, quindi siamo proprio degli amici storici che hanno dato vita a questo progetto, ovviamente a Castelbuono perché siamo tutti di Castelbuono. È un modo per, diciamo, tenerci uniti, un modo per dare valore al nostro paese, perché comunque abbiamo un legame forte con la nostra terra, quindi ci piace l'idea di organizzare questo festival nella nostra terra, nel nostro paese, nella location meravigliosa che è quella del Chiostro di San Francesco. Invece abbiamo ovviamente i canali social, Facebook, la pagina si chiama, diciamo, Apertamente, il canale Instagram, Musaicon, e lì troviamo, abbiamo inserito da poco il Linktree, il Linktree ti ha la possibilità, diciamo, con un click di consultare sia i ticket online, ma anche i trailer delle nostre edizioni passate, le informazioni per raggiungere l'evento.